Parlare di Giannacci per me è come parlare del mio cuore, perché Giannacci è soprattutto Milano, la Milano di una volta, la Milano dei miei nonni, di mia mamma, ed è una Milano che parlava ancora in dialetto. Giannacci è forse l'ultimo artista, perché a definirlo un cantante è troppo poco, che ha avuto una fama nazionale parlando e cantando quasi sempre in dialetto. C'è una canzone che mi commuove moltissimo, che è Elmaine di Ries, dove lui ricorda la casa in cui è nato, ricorda con grande nostalgia la Milano delle periferie, dei cortili, che poi era anche un po' la Milano della canzone di Celentano di Via Gluck. Ma c'è anche un Giannacci che ha una capacità straordinaria di sbeffeggiare il potere e lo ricordo soprattutto in una canzone meravigliosa che è Ho visto un re che Giannacci scrisse con Dario Fo, dove alla fine dice l'importante è che il popolo rida, che sia contento, perché i capi, i principi vogliono che il popolo rida, perché se il popolo è triste si mette a pensare e comincia a capire anche di quante cose non vanno bene. sempre allegri dobbiamo stare. Giannacci ha raccontato un mondo che non soltanto non c'è più, ma non c'era già più quando lo cantava lui. La Milano dei suoi tempi, delle sue canzoni era già finita purtroppo quando lui la cantava. Ma è un qualche cosa che rimane di immortale, soprattutto per chi ama Milano, perché in quelle canzoni c'è il DNA di un popolo, di un agente, di uno spirito che mi permetto di dire fa ancora oggi di Milano l'unica città davvero europea d'Italia.